Abbiamo transennato l'area con un nastro segnalatore bianco e rosso per impedire l'accesso e evitare ulteriori pericoli e domani mattina abbiamo chiamato la ditta che smantellerà tutto il legno perché abbiamo visto che è in condizioni per essere smantellato, quindi domani toglieremo tutto e poi una volta approvato il bilancio, quindi fra una settimana, fideremo l'incarico per il ripristino dell'opera. Abbiamo notato che è molto rovinato, questo significa che non c'è stata una manutenzione negli anni precedenti? Sì, intanto l'opera è del 1992 in legno, quindi un materiale organico, poi le manutenzioni sono state fatte però evidentemente non con la frequenza che sarebbe stata necessaria, comunque il legno è un materiale deperibile per cui magari manutenendolo più frequentemente poteva durare anche un po' di più.